Niente di meglio di una diretta per testimoniare lo stato di salute dei ponti lombardi. Il portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera ieri si è collegato in diretto col Parlamento per spiegare la richiesta di un intervento immediato sui ponti lombardi. L'appello è stato lanciato sotto il ponte di Viadana nel Mantovano, focus anche sulla necessità di far avanzare i lavori per un nuovo ponte di Casal Maggiore. Lo strumento indicato per questa partita, secondo Zolezzi, è la nomina di un commissario unico. Il ponte di Viadana entrerà in Parlamento in seduta diretta della Commissione Ambiente che così riesce proprio a rendersi conto di cosa si parla di un ponte in un territorio davvero di pregio, il territorio del fiume, però è necessario spiegare a tutti i commissari, a tutti i gruppi politici di cosa si sta parlando. È un ponte importante che deve essere ricostruito al più presto tramite videocollegamento e è possibile avere questa politica più interattiva. Non è l'unico ponte perché anche a Casal Maggiore c'è un grosso problema, anche vicino a San Daniele e Po, insomma un po' tutto il territorio necessita di interventi seri. Certo, appunto la risoluzione riguarda tutti i ponti del Po, in particolare quelli proprio direttamente sull'asta del Po, anche Casal Maggiore deve avere un progetto chiaro e una tempistica chiara di ricostruzione. Sappiamo bene la sofferenza di questi territori col ponte di Casal Maggiore chiuso. Adesso una serie di fondi stanno arrivando, nel PNR abbiamo chiesto fondi anche per i ponti di Casal Maggiore, ma con il commissariamento sarà possibile, con un solo commissario per tutti i ponti del vaccino, sarà possibile avere appunto un monitoraggio. Questi sono ponti in rete, se uno si ferma si bloccano una serie di attività produttive, di trasporti, si blocca il trasporto delle persone, quindi è giusto considerarli come una rete di infrastrutture che lavorano per dare servizi e qualità, per consentire alle nostre merci di qualità di potersi spostare, a breve speriamo di avere questi fondi.